Arrestato domenica pomeriggio Francesco Falchi, 37enne algherese, pluripregiudicato. L'uomo ha rubato una borsetta lasciata imprudentemente sul cuscotto di un'auto in sosta davanti al palazzo dell'Asl, ma il suo tentativo di fuga verso il centro cittadino è stato stoppato dopo poche centinaia di metri dai carabinieri della stazione di Alghero, che lo hanno arrestato ed hanno recuperato l'intera refurtiva, circa 500 euro restituiti al legittimo proprietario. Falchi, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, è stato accompagnato nella casa circondariale San Sebastiano di Sassari. Grazie.